Il governo regionale è al lavoro nel predisporre la finanziaria Quater. Nel testo vi sono nuovi contributi alle imprese del genere di quelle appena attivati per abbattere i tassi dei mutui e poi una quarantina di milioni per prolungare almeno fino a Pasqua la campagna contro il caro voli e un assegno da 10 milioni per avviare la ristrutturazione integrale della rete idrica ad Agrigento. Inoltre la bozza prevede almeno 25 milioni per finanziare progetti di sviluppo. L'assessore all'economia Alessandro Dagnino ha consegnato nei giorni scorsi a Renato Schifani un tesoretto da 250 milioni spendibile già entro ottobre. Ecco perché si procede velocemente al fine di sottoporre al più presto la manovra all'esame dell'Assemblea regionale. Il presidente Schifani commenta che negli ultimi anni non era mai successo di avere una tale disponibilità di risorse. Ora la scommessa è fare in modo che questi fondi extra che stiamo per stanziare non finiscano arrivoli improduttivi ma a misure che aiutino la crescita delle imprese.